Allora salutiamo i nostri ascoltatori augurando a tutti buon anno e quindi cominciamo con il solito post-it di ingresso e questa volta parliamo di una nuova stagione per il lavoro. L'altra volta abbiamo parlato dei 50 anni passati dopo l'attentato di Piazza Fontana che fu l'inizio della strategia dell'attenzione. Ma adesso vogliamo parlare invece, vogliamo cominciare anzi con gli anni delle lotte che magari la stagione appunto tragica degli attentati e della strategia dell'attenzione tendeva a far arretrare o fermare o addirittura cancellare. E allora ci fu 50 anni fa, oltre alle lotte congiunte di studenti e di lavoratori, che è dietro vita alla più grande mobilitazione mai avuta nel nostro Paese. Chiaramente questo è stato anche l'argine di fronte a questo attacco alla democrazia e alle istituzioni. Quello appunto di questo grande movimento e di fronte ai tentativi anche se non di golpe, che poi c'è pure stato come tentativo, ma anche appunto di fermare, di irretire con lo stato d'emergenza le istituzioni democratiche. I diritti civili in quel periodo, non solo le lotte sindacali e studentesche portarono cambiamenti nei rispettivi mondi, ma ci fuori anche i diritti civili, a seguire diritti civili come il divorzio, l'aborto e poi la legge soprattutto nel mondo del lavoro, ci fu la legge 300 del 70, lo statuto dei diritti dei lavoratori. Nei primi anni 60 arriva al culmine la più grande trasformazione che la nostra società abbia mai conosciuto. Diamo alcune cifre. Tra il 48 e il 58 il PIL cresce del 5,7% e tra il 58 e il 61 arriva addirittura al 7,5. Cioè di qui siamo veramente a livelli, a livelli dello sviluppo quasi miracoloso della Cina. La disoccupazione scese al 3% nel 1962 grazie anche ad un massiccio emigrazione al nord, raggiungendo in pratica con questo 3% quasi la piena occupazione. Creando con questo sviluppo, e questo è il cuore del problema, c'è un problema qua, c'è un problema, aspetta, aspetta.